Tag Oyer Carrera calibre 1887, un orologio iconico tra tradizione e innovazione. Il Carrera nasce dalla visione di Jack Oyer, il nipote del fondatore di Tag Oyer, Edward Oyer. Jack Oyer era un appassionato di automobilismo e voleva creare un orologio che fosse dedicato ai piloti e agli appassionati di corse. Nel 1963, si ispirò alla Carrera Panamericana, una delle gare automobilistiche più pericolose e spettacolari al mondo, che si svolgeva in Messico. Il nome Carrera significa «corsa» in spagnolo e Jack Oyer lo scelse per il suo orologio, perché evocava il senso di avventura, di sfida e di velocità. Il Carrera calibre 1887 è un orologio che ha segnato una svolta nella storia di Tag Oyer e della collezione Carrera. Per la prima volta, infatti, il cronografo Carrera è animato da un movimento prodotto dall'azienda stessa, il calibre 1887. Il Carrera calibre 1887 è impermeabile fino a 100 metri di profondità, garantendo una resistenza all'acqua adeguata a un orologio sportivo. Le particolarità che rendono subito riconoscibile questo modello sono i subquadranti posizionati a ore 12, 6 e 9. Il quadrante è anche dotato di una finestra per la data, posizionata a ore 3 o 6, a seconda della versione. Gli indici e le lancette del Carrera calibre 1887 sono luminescenti, rendendo facile la lettura dell'ora in qualsiasi condizione di luce. Gli indici possono essere a bastone o a numeri arabi, a seconda della versione. Il quadrante è inoltre decorato con il logo tag Oyer e con la scritta Carrera calibre 1887, che sottolineano l'identità e la qualità dell'orologio. La lunetta è realizzata in acciaio inossidabile o in oro, a seconda della versione, e presenta una scala tachimetrica, che serve per calcolare la velocità media su una determinata distanza. Se sei alla ricerca di un orologio che sia allo stesso tempo elegante e funzionale, il Carrera calibre 1887 è quello che fa per te.